Nello zaino gli hanno trovato 804 pasticche di iaba e per questo è finito in manette per detenzione i fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È della tarda serata di giovedì l'arresto eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Mestre. In via Piava ad essere fermato è stato un cittadino bengalese di 36 anni, pregiudicato per reati specifici, nulla facente. I militari lo tenevano d'occhio da un po' perché la sua abitazione era diventata inspiegabilmente un crocevia molto frequentato dai suoi connazionali. Proprio giovedì sera i carabinieri hanno deciso di sottoporlo a controllo mentre rientrava a casa. Il 36enne ha mostrato segni di insofferenza e di nervosismo pure se addosso la perquisizione non ha fatto emergere alcunché. Ma è stato l'esame approfondito dello zaino che indossava a svelare le ragioni della sua inquietudine. In una specie di sottofondo sono stati trovati 8 involucri contenenti complessivamente 804 pasticche che il narcotest ha accertato essere positive alla metanfetamina e comunemente conosciute nella comunità bengalese con il nome di Yaba. L'uomo, su disposizione del pubblico ministero di turno, dopo le formalità di rito, è stato portato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. La Yaba è conosciuta nel giro dello spaccio come la droga di Hitler, di Ulcke o della pazzia perché è capace di scatenare nell'assuntore effetti altamente aggressivi. Le pasticche di Yaba sono piccole, di colore rosso. L'effetto allucinogeno è devastante, dura oltre 8 ore e causa una sensazione di potenza fisica smisurata che sfocia nell'aggressività che l'assuntore sfoga contro se stesso e gli altri. La droga di Ulcke costa relativamente poco, una pasticca si vende a 10 euro circa ed è molto diffusa anche perché pare aiuti a stare svegli per molte ore.